Nello scorso episodio di School of Snacks abbiamo parlato di pickles, di cetrioloni Oggi però ho una chicchetta Perché sono arrivati i ghiaccioli al gusto cetriolo Non so se sanno di cetriolo o della salamoia del cetriolo Scopriamolo insieme Ringraziamo i nostri amici Ben & Jerry's che ci mettono a disposizione il freezer Qual è? È passato un giorno e adesso vediamo com'è il nostro ghiacciolo del cetriolo Bello duro È salato È la salamoia dei cetrioli raga Sa di aglio, aceto, salatino e cetriolo Fa un po' schifo ma è buono Grazie a tutti